Siamo in collegamento con il dottor Maurizio Marassi, medicina dello sport, salve grazie per essere con noi. Bentrovato! Saluto a tutti, i telescoltatori e a lei. Allora, dottore, la pandemia ha colpito anche il mondo sportivo, anche gli atleti naturalmente sono stati contagiati e sono stati affetti da Covid. Naturalmente ci domandiamo e le domandiamo, questi atleti colpiti da questo virus, come possono ritornare a fare agonismo in piena salute? Quanto tempo innanzitutto dovranno aspettare dopo la negatività? Ma allora, questo è un argomento molto importante e di grande attualità, perché purtroppo non c'è stata un'adeguata diffusione e tutte le società, il mondo dello sport, i dirigenti, gli allenatori, i genitori, veramente spesso non sanno cosa fare. È stato deciso a livello ministeriale e raccomandato, quindi lasciando anche una certa elasticità ai medici dello sport, ma che poi rappresenta una grande responsabilità, di controllare gli atleti una seconda volta. Cioè, per coloro che hanno eseguito la visita medico-sportiva precedentemente, devono ripeterla e devono ripeterla con dei canoni a seconda se essi siano stati colpiti dal Covid in maniera asintomatica o sintomatica. A parte che c'è una problematica importante, perché tutti quelli che hanno avuto questo sciagulato virus hanno una conseguenza di base che spesso viene detto sindrome post-covidica, dove si ha un'eccessiva stanchezza, una riduzione delle capacità respiratorie, insonnia, spesso anche calo di funzione renale, problemi polmonari e affaticamento. Ma il problema principale è a livello cardiaco, dove purtroppo molti atleti, anche in maniera silente, possono avere delle problematiche cardiovascolari molto importanti. Quindi lei, come esperto della materia, cosa consiglia ad un atleta che purtroppo è stato colpito dal virus prima di ritornare a fare attività a livello agonistico? Perché chiaramente noi immaginiamo sempre il calciatore che milita in una grande squadra, quindi ha tutta una struttura intorno che lo accompagna e anche lì poi c'è da discutere, perché è molto chiaro, non è il protocollo nemmeno per quanto riguarda loro. Ma parliamo dell'atleta medio, insomma, che non ha a supporto questa rete. Cosa deve fare? Cosa lei consiglierebbe? Diciamo che lei sta mettendo un po' il dito nella piaga, perché in questo momento noi dobbiamo considerare non genericamente gli atleti agonisti, ma dobbiamo considerare gli atleti agonisti professionisti, gli atleti agonisti generici e soprattutto il grande numero di atleti non agonisti. Perché non ci dimentichiamo che mentre gli agonisti vengono sempre eseguiti con un ottio particolare, perché effettivamente hanno un tipo di impegno organico intenso, ma anche i non agonisti possono essere seguiti e colpiti da questo tipo di problema. Quindi diciamo genericamente io direi tutti gli atleti che hanno avuto il Covid, sia esso in situazioni sintomatiche che non, devono fare dei controlli. Questi controlli sono stati regolamentati a livello agonisti, si sono divise tre categorie, vengono dette A1, A2, A3. A1 sono coloro che hanno avuto il Covid, ma in maniera del tutto asintomatica. A2 sono coloro che l'hanno avuto con sintomi e che hanno provveduto con una terapia. A3 sono quelli invece che l'hanno avuto sotto forma grave. Mentre nella prima categoria A1, e io metterei un po', tantissimi, anche molti che l'hanno avuto, che sono risultati positivi e non ne hanno avuto contezza, se non tramite un tampone, si deve ripetere un controllo. Purtroppo noi viviamo in un territorio dove la medicina dello sport è molto sottovalutata. Credo che in questa occasione venga esaltata la funzione della medicina dello sport, che ha da sempre una funzione preventiva e quindi tutti i nostri atleti, e io quando parlo di atleti non parlo solo degli atleti agonisti, ma parlo anche dell'atleta dello sportivo della domenica, devono fare dei controlli adeguati e quindi sottolineo l'aspetto dei controlli seri, dei controlli cardiovascolari, dei controlli spirometri, dei controlli approfonditi, per evitare che questa sciagura che si è abbattuta su di noi possa mettere delle vittime. Molti genitori ci chiedono e noi le chiediamo, quando un atleta, sia a livello amatoriale anche, fa il vaccino anti-covid, quanto tempo poi deve aspettare per poter ritornare a fare l'attività, sia agonistica che non naturalmente? C'è un tempo o può andare a fare sport anche immediatamente dopo la vaccinazione? Allora, lei mi sta dicendo della vaccinazione, però farei un attimino un passo indietro. Per quanto riguarda coloro che hanno avuto il covid, possono fare subito la visita di controllo dopo sette giorni, ma tutti quelli al di sotto dei 40 anni, al di sopra dei 40 anni, devono fare questa valutazione dopo due settimane. Per coloro che fanno il vaccino, se non hanno un Green Pass totale rafforzato, non possono frequentare ambienti sportivi. Quindi soltanto quando hanno materialmente il riconoscimento della piattaforma, possono iniziare la frequenza. Certo, ma la mia domanda è questa. C'è bisogno, fermo restando, al Green Pass naturalmente, che abbia completato il ciclo vaccinale, perché altrimenti non accede agli impianti sportivi. C'è una conseguenza diretta per poter ritornare immediatamente a fare sport? Il vaccino può complicare l'attività sportiva? C'è un lasso di tempo che bisogna aspettare? Ma no, non c'è un lasso di tempo codificato, perché poi ognuno di noi ha avuto delle piccole o delle grandi reazioni. Quindi è molto individualizzato. Una volta fatto il vaccino, io direi dopo 48 ore si può tranquillamente riprendere. Poi dipende da tante situazioni, dipende dalle condizioni organiche, dall'età del paziente, da eventuali patologie che lui può avere. Quindi non mi sento di dare una risposta precisa, perché non esiste un protocollo preciso e ci tengo a dire che in questo momento c'è molta confusione, perché non c'è stata un'adeguata codificazione, trasmissione attraverso i media, per cui moltissime società, moltissimi dirigenti, moltissimi allenatori, ma gli stessi genitori sono un po' in confusione. Ecco il motivo per cui io ho aperto una pagina Facebook con domande proprio per indirizzare le società, perché si è saputo, si dice, arrivano notizie un po' frammentate, ma basti pensare che il Ministero, quando ha trasmesso queste linee guida, non le ha trasmesse come diktat, ma le ha trasmesse solo come raccomandazioni. Quindi ha un po' scaricato la responsabilità su noi medici e un po' se ne è lavato le mani. Certo, insomma, poi chiaramente la responsabilità medico-legale è sempre dietro l'angolo per voi medici, siete proprio sotto la lente di ingrandimento, basta che qualcosa non va, chiaramente il medico ha sbagliato, a prescindere poi se è vero o meno. Le chiedo un'ultima cosa prima di salutarci. Ha visto molti giovani che hanno avuto conseguenze gravi dal post-Covid? Allora, nell'ambito dell'attività medica dove abbiamo oneri e onori, dove praticamente per chi fa questa attività c'è una grande passione, c'è un grande legame con la realtà, io poi che sono uno sportivo proprio di natura, veramente ho vissuto in maniera molto profonda questo tipo di problemi, anche perché moltissimi ragazzi, e vado a rispondere alla sua domanda, che hanno avuto soltanto positività, poi si sono ritrovati con dei problemi abbastanza importanti. Il problema più importante, il più silente, il più rischioso è la miocardite. Quindi questo è il motivo per cui io inviterei tutti coloro che fanno sport, non soltanto gli agonisti, perché sembra quasi che gli agonisti fanno sport e gli altri no. Parliamo di tutti i bambini che fanno l'avviamento allo sport, parliamo di tutti gli anziani che fanno sport per salute, devono urgentemente fare dei controlli, perché la miocardite è molto silente, si può riscontrare tranquillamente al momento in cui si fa una valutazione precisa e quindi l'assistenza che noi dobbiamo dare agli atleti in genere, agli sportivi in genere, deve essere di grande attenzione e profondità. Dottore, noi la salutiamo, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Arrivederci. Io la ringrazio di questo momento di cultura e sono sempre a vostra disposizione. Grazie, arrivederci.